A presto, a presto e a presto. È il mio nome. Non so, non è il mio nome di tutti e tutti siamo d'accordo. Ma non è il mio nome di tutti. Ecco l'infortunato. Cambio, cambio. Perché non sono in campezzo? Non mi sono in campezzo, non mi sono in campezzo. Facciamo una cosa democratica? Facciamo una cosa democratica, ma la vaffanculo. Ahahahahahahahah Ahahah. Questo video è fantastico. io lo so perchè il mio si deve raccontare per raccontare un testa di cazzo come male lui se ha capito deve stare a fregare eh, deve lasciare il cellulare, così le manchi di sfida e nemmeno sapete che spegno, malcatraga no, no perchè fai tu? a dormire no, no perchè voglio dormire ma che vuole tu qua? ma fa il culo no perchè ti dai tu ascolto, io di te ho paura che tu me lo metti per il culo ahahah oi, ci stai sapere? ah si no, ci stai arrabbiando no, ci stai sapere